buona la seconda la biosfera illumina la capitale della cultura pesaro 20 24 ora ha anche moneta e francobollo celebrativi a fano rinasce piazza marcolini polveri sottili in due mesi pesaro e fano hanno già superato gli sforamenti del 2023 da liceo a museo nuovi percorsi artistici al mengaroni buona sera a tutto il pubblico di rossini tv benvenuti al nostro telegiornale oggi è lunedì 26 febbraio apriamo quest'edizione occupandoci degli ultimi aggiornamenti relativi a pesaro capitale della cultura ieri la città ha dato ufficialmente il benvenuto alla biosfera simbolo iconico di questo 2024 dopo la falsa partenza di sabato viziata da un inatteso malfunzionamento ieri piazza del popolo si è di nuovo gremita per assistere a uno spettacolo che vi mostriamo in questo primo servizio si è accesa la biosfera di pesaro in piazza del popolo seppur con un leggero ritardo rispetto a quanto preventivato a causa di un piccolo imprevisto l'inaugurazione ufficiale infatti è slittata da sabato a domenica un inconveniente non voluto ma quasi fortunoso visto che la pioggia del giorno prima che comunque non aveva scoraggiato i pesaresi nell'avvenire in piazza ha lasciato spazio ad una bellissima giornata di sole che ha portato oltre 4 mila cittadini ad assistere all'evento è stato molto emozionante tante persone che hanno guardato davvero con sorpresa uno spettacolo audio luci unico che ha dimostrato quante potenzialità questa sfera questi sono i primi tre contenuti ma in futuro se ne potranno fare tanti altri e soprattutto è una sfera che funzionerà tutti i giorni e quindi sarà un'attrazione nell'attrazione e poi rimarrà pesaro e quindi diventerà un nostro simbolo e diventerà il simbolo che lancia pesaro nel futuro nella modernità un'idea di vimini quella di ragionare sulla sfera perché abbiamo una grande c'è un filo conduttore che lega modernità e storia la modernità della sonosfera con la biosfera la storia della palla di pomodoro della sfera di pomodoro e la storia della della nostra città dal punto di vista sportivo in particolar modo il pallone da basket che tutti hanno con il quale palleggiano da quando sono piccoli il sole che tramonta sul mare in quel mese e mezzo straordinario dell'estate dove siamo una delle pochissime realtà nell'Adriatico che vedono il tramonto sul mare ma è anche la ruota della bicicletta la ruota della motocicletta se vogliamo anche la pista Rossini e quindi è un simbolo che ritorna non a caso questo palco l'abbiamo allestito con una copertura sferica e non a caso la biosfera è stata la scelta è davvero un oggetto che lancia pesaro nel futuro nella modernità stato un progetto lavorato anche con tutti i partner le due università che sono delle marche l'università di urbino e l'università di ancona insieme hanno creato questo progetto con tutti i partner che sono 17 e è stato vinto questo bando e quindi sono arrivati a pesaro questi 11 milioni e 300 mila euro e questo oggi è il primo progetto che vediamo proprio in concreto che i cittadini possono toccare poi nei prossimi giorni ci saranno anche nuove inaugurazioni dove la casa delle tecnologie ha comunque lavorato per tutta la parte appunto tecnologica e innovativa. Sono lavoro di circa otto mesi di pianificazione tra varie fasi del concorso per idee siamo aggiunti appunto a questa ultima versione del progetto dove abbiamo materializzato tutto dalla progettazione all'ingegnerizzazione e quindi lo sviluppo dei software per poter integrare appunto vari flussi di vari prodotti che arrivano un po' da varie parti del mondo dalla Cina per quanto il led le strutture sviluppate in Italia e tutto il software sviluppato in Italia e la parte sensoristica che ci aiuta appunto a acquisire i dati per tutta la parte machine learning AI che va a alimentare quelle che sono i contenuti dinamici e interattivi del progetto. Da simbolo di modernità come la biosfera passiamo a due simboli di tradizione istituzionale. Da oggi Pesaro capitale della cultura ha anche una sua moneta celebrativa coniata dalla zecca dello Stato ed un francobollo emesso da posse italiane. Pesaro capitale della cultura cavalca l'onda della simbologia del suo 2024. A meno di 24 ore da una domenica sera nel segno del varo di un'icona di modernità come la biosfera è con lunedì mattina all'insegna invece del passato rinascimentale e della tradizione istituzionale. A Palazzo Ducale, sede della prefettura, sono state presentate ufficialmente moneta e francobollo celebrative di Pesaro capitale della cultura 2024. Novità annunciate in una mattinata cominciata con la cerimonia in costume con tanto di proclama di Guido Baldo II della Rovere e conclusa con decine di collezionisti in coda nella Sala Laurana per munirsi dei due cimeli. Ogni anno il Ministero delle Imprese del Made in Italy certifica una città come con il francobollo della capitale italiana della cultura. È un ottimo riconoscimento, un bel riconoscimento far parte di queste litte di città che vengono scelte assolutamente per il proprio operato nell'ambito della cultura stessa. Quindi sicuramente è lo Stato che certifica un comune virtuoso nella cultura. La tiratura del francobollo è di 250.020 esemplari e del valore nominale di 1,25 euro. La moneta in rame, emessa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, è realizzata dall'artista incisore Uliana Pernazza e prodotta presso le officine della Zecca dello Stato. Ha un valore nominale di 5 euro e una tiratura di 4.500 pezzi vendibili a 45 euro l'uno. Palazzo Ducale troneggia sul francobollo così come sulla moneta dove sono anche raffigurate la fontana di Piazza del Popolo e Rocca Costanza. Noi annualmente celebriamo quei tasselli che rappresentano quel fantastico mosaico della cultura italiana. Da qualche anno abbiamo ricominciato a coniare le singole monete che celebrano le capitali italiane. Una città rinascimentale con la storia che è a Pesaro rappresenta un soggetto bellissimo da studiare e da riportare all'interno di una moneta. Sono molto felice e orgogliosa sia come prefetto ma consentitemi anche ormai come cittadina di Pesaro di vedere riprodotto proprio la facciata sia sulla moneta che sul francobollo. Quindi siamo stati molto felici sia io che il direttore regionale dell'Agenzia del Demanio nel dare la nostra autorizzazione nella riproduzione della facciata. Aggiungiamo altri due simboli invece che hanno a che fare con la storia del nostro paese, il francobollo e la moneta. Sono due simboli ufficiali che rappresentano appunto l'evento storico che stiamo vivendo e che rafforzano la nostra promozione, rafforzano la nostra comunicazione e le danno anche un'autorevolezza istituzionale. Quindi siamo davvero molto grati per questo. Tanti collezionisti già ci stanno chiamando perché vogliono sia la moneta che il francobollo ma questo aspetto ovviamente rafforza ulteriormente l'istituzionalità, l'ufficialità, l'autorevolezza di una capitale della cultura storica per la nostra provincia che segnerà ulteriormente il modello di sviluppo dei prossimi anni. Quindi siamo molto contenti e aggiungiamo simboli su simboli. Il prossimo simbolo sarà un'opera strategica perché giovedì inaugureremo l'auditorio per scavolini, la lunga ristrutturazione del vecchio palazzetto dello sport. Anche quello è un simbolo che rinasce e che rappresenterà anche la città di domani. Ed ora passiamo alla cronaca. Il fine settimana appena trascorso ha registrato un'intensificazione di controlli su strada da parte dei carabinieri sull'intero territorio provinciale. Nell'ambito di questi controlli, i militari della stazione di Pergola hanno arrestato un ragazzo di 27 anni, destinatario di un ordine di carcerazione per un furto in abitazione, commesso nel 2016. I carabinieri di Fano hanno invece controllato un'auto sospetta nel parcheggio del Fano Center. Al suo interno un giovane in compagnia di una ragazza è stato trovato in possesso di 10 grammi di eroina e di alcune dosi preconfezionate di cocaina. Incidente oggi intorno alle 14 in zona Torraccia di Pesaro, dove c'è stato uno scontro fra due autovetture in transito su via Mondini. Gli occupanti dei due veicoli non risulterebbero feriti in maniera grave, ma l'incidente ha creato un'importante congestione al traffico per le operazioni della Polizia Locale di ripristino della sicurezza stradale. Ed ora ci occupiamo di tematiche ambientali. Arrivano dati preoccupanti dall'ARPAM per quel che riguarda l'emissione di polveri sottili a Pesaro e a Fano in questi primi due mesi del 2024. Allora vediamo proprio in questo servizio i dati. Le piogge di questi giorni potrebbero dare sollievo ad un problema di polveri sottili emerso in maniera preoccupante nei primi due mesi del 2024. Secondo i dati ARPAM la città di Fano attraverso la sua centralina di via Montegrappa ha già registrato 15 giornate di sforamento di PM10 sopra il limite consentito di 50 microgrammi al metro cubo. Dati di poco inferiore a Pesaro dove a gennaio e febbraio sono già state 13 le giornate di sforamento sul fondo urbano rilevate dalla centralina posta al Parco Scarpellini. Sono numeri preoccupanti se si considera che gli sforamenti in tutto il 2023 appena archiviato furono 11 a Pesaro e 12 a Fano. Numeri di fatto già superati nel primo bimestre del 2024 e che andranno monitorati nei mesi a venire per il rispetto di una normativa di legge che consente il superamento del livello di protezione della salute umana per un massimo di 35 giorni l'anno. Ci sono però tematiche ambientali anche confortanti come quelle testimoniate ad esempio dal crescente utilizzo delle casette dell'acqua installate da Marche Multiservizi. Un consumo d'acqua economico e sostenibile che sta avendo riscontri molto positivi nel comune di Tavuglia. Un'altra accelerata delle comune di Tavuglia sul consumo sostenibile dell'acqua dell'acquedotto. A Rio Salso è stata inaugurata nei giorni scorsi la quarta casetta dell'acqua sul territorio comunale dopo quelle precedentemente poste al centro del paese e nelle frazioni di Babucce Padiglione. La quarta casetta è stata collocata in via tagliamento e al taglio del nastro oltre alla giunta comunale e al presidente di Marche Multiservizi Pierotti hanno partecipato anche numerosi cittadini e i bambini della società sportiva Valfoglia. Una bella giornata oggi per il comune di Tavuglia e la comunità in particolare di Rio Salso perché è la quarta casetta dell'acqua del comune quindi abbiamo coperto tutte le frazioni di questo c'è grande soddisfazione dell'amministrazione ma anche dell'azienda che ci consente con queste operazioni di veicolare dei messaggi importanti, quello del valore dell'acqua stessa in particolare in stagioni critiche come quella di quest'anno e quindi il fatto che ci si può approcciare all'acqua dell'acquedotto, al rubinetto, bere l'acqua tramite le casette ma anche quella del rubinetto perché sono acque buone, Marche Multiservizi le controlla, fa 320 analisi al giorno con un laboratorio di analisi all'avanguardia per cui il consiglio è quello di sia perché si risparmia ma soprattutto per il vantaggio alla sostenibilità ambientale quindi così facendo si riduce il consumo della PET, della plastica e appunto si consuma acqua corrente con un vantaggio sia per il portafoglio che per l'ambiente per cui siamo contenti di collaborare insieme alle amministrazioni e a lato a iniziative di questo genere di valorizzazione di una risorsa molto preziosa per il nostro territorio. Acqua di qualità, ad alto controllo, ad azzeramento di utilizzo delle plastiche e a impatto economico ridotto come vuole la tariffa di 5 centesimi al litro. Abbiamo fatto varie scelte in questi anni, la prima è stata quella di regalare per bene due anni delle borracine all'interno delle classi, noi abbiamo 500 alunni, ad ognuno di loro abbiamo regalato appunto queste borracce che possono riempire loro stessi la mattina a scuola perché abbiamo installato in tutte le scuole di Tavuglia degli erogatori dell'acqua e quindi non c'è più bisogno insomma di utilizzare plastica o altro. Poi abbiamo installato la prima casetta dell'acqua a Tavuglia passando poi a Babucce e a Padiglione e abbiamo visto che l'acqua viene molto utilizzata, vediamo come i cittadini apprezzino questo servizio anche perché ricordiamolo costa veramente poco, un litro di acqua a 5 centesimi e quindi mancava qua a Rio Salso e anche la scelta della posizione dove è stata messa la casetta è molto centrale perché ci troviamo in questo vicino all'impianto sportivo di Rio Salso appunto dove vertono 300 bambini e tutte le domeniche ci sono le partite quindi veramente un luogo trafficatissimo. Quindi speriamo che vedere questa casetta che poi è molto bellina, molto carina, possa attrarre anche chi non ha mai provato l'acqua dell'acqueduto. Io la bevo ormai da anni ed è buonissima, con la frizzante veramente buona e fresca si sente che è priva di quel sapore plasticoso che hanno le altre acque. Per quanto riguarda invece il disegno abbiamo collaborato e tra un mese presenteremo un libro fotografico su Tavuglia a cui abbiamo lavorato ormai da un anno e abbiamo estrapolato una foto del fotografo Paolo Giucoso per riportarla qua. Quindi mentre le altre casette sono più anonime, diciamo sono omologate a tutte le altre, questa casetta veramente la sentiamo nostra perché è stata appunto posta la foto delle cascate che ci sono da noi a Casa Bernardi. Nell'occasione, grazie a Marche Multiservizi abbiamo regalato a tutti i partecipanti un cestino con sei bottiglie di vetro. Come ha detto Alberto Sebastiani è importante quando viene erogata l'acqua utilizzare bottiglie di vetro e non di plastica e non l'usagetta e quindi non sono tante ma sei bottiglie da un litro a famiglia credo che sia un bel gesto. Per chi le volesse e non è riuscito oggi a venire o altro basta che ci chiami e riusciremo insomma a darle anche a chi non è riuscito a prenderle. Ed ora una segnalazione di servizio. Sono stati posticipati al 7 marzo i due incontri pubblici inizialmente calendarizzati a Pesaro per domani per spiegare a famiglie e imprese come procedere all'istruttoria relativa alla richiesta di contributi per i danni occorsi ai privati a seguito dell'alluvione di maggio 2023. Lo spostamento della data è dovuto ad una indisposizione della struttura commissariale di governo per la ricostruzione post alluvione. L'incontro quindi si terrà il 7 marzo alle 15.30 nella sala comunale delle 5 torri. Le immagini che vi mostriamo ora si riferiscono invece a piazza Marcolini, angolo del centro storico di Pesaro completamente riqualificato dopo sette mesi di interventi. Ieri il taglio del nastro ad una piazza restituita alla città con nuovi arredi, panchine, aiuole, fare di illuminazione e soprattutto la nuova fontana con obelisco che fu realizzato negli anni 50 dagli studenti dell'Istituto Apolloni e che per anni fu collocato nei giardini di piazza Miani. Per il comune di Fanno è il punto di arrivo di un investimento da 600 mila euro, 500 mila dei quali reperiti attraverso i fondi del PNRR. 50 kg di rifiuti raccolti nelle spiagge di Viale Trieste a Pesaro e questo è il risultato dell'operazione di pulizia effettuata ieri dai volontari dell'associazione Be Kind to Nature insieme a Fondazione Cetacea, associazione Persona Gentile e Bodytech Pesaro. Una domenica all'insegna della salvaguardia dell'ambiente marino che ha consentito soprattutto di recuperare frammenti di reti da pesca portate sulla sabbia dalle onde. È in programma domani alle ore 17 e 30 nella sala Pierangeli della provincia l'incontro pubblico con l'attivista per i diritti umani Biello Russa Olga Karach, la fondatrice dell'organizzazione per i diritti umani Our House, più volte incarcerata e torturata dal regime di Lukashenko, rappresenta una figura di spicco del movimento pacifista internazionale. Attualmente vive in esilio a Vilnius, dove prosegue la sua attività non violenta di denuncia delle violazioni dei diritti umani in Biello Russia. A pochi giorni dalla sua presenza a Montecitorio, la Karach avrà a Pesaro la sua prima tappa italiana di testimonianze sul tema dei diritti umani. Ed ora cambiamo argomento, parliamo del liceo artistico Mengaroni che inaugura nuovi percorsi museali all'interno della sua sede scolastica. Dopo il CAME, dedicato alle ceramiche, ecco anche il MAME e il TAME, dedicati a metalli e tessuti artistici. Nella sede del liceo artistico Mengaroni di Pesaro, con il contributo della fondazione Scavolini, è stata inaugurata la mostra dei musei MAME e TAME, dedicata ai metalli e ai tessuti artistici della Mengaroni, che andranno così ad incrementare il già esistente museo CAME che riguarda invece le ceramiche. Noi abbiamo coordinato il progetto per quanto riguarda la sezione di tessitura, essendo appunto due ex alunne di questa sezione. Abbiamo frequentato questa scuola negli anni 80 e quindi ci teniamo molto a questa iniziativa che ha portato a conclusione un percorso che è iniziato nel 2018 con il primo museo che espone le ceramiche dell'Istituto. A completamento oggi si conclude questo percorso con la sezione di metalli e la sezione di tessitura, tre sezioni che oggi al liceo artistico non ci sono più ma che è bene valorizzare per far conoscere alle nuove generazioni quello che è stato fatto nel passato. Questo museo per quanto riguarda la tessitura ha riportato alla luce quindi elaborati di quegli anni, quindi ci sono opere realizzate a telaio, opere realizzate con la tecnica del batik, opere anche realizzate con la stampa serigrafica e con il macramè. Alcune delle opere esposte hanno partecipato a dei concorsi a livello nazionale ottenendo dei riconoscimenti e quindi è possibile ammirare degli arazzi, dei tessuti insomma di vario genere che hanno un alto valore artistico. Parliamo dello scopo di questo museo è quello di tralasciare documenti importanti, quindi tutti i lavori eseguiti negli anni, dagli anni 60 come abbiamo già parlato in conferenza fino agli anni 80 con i lavori più interessanti. Poi fino agli anni 90 la sezione ha continuato a lavorare ma avendo un momento di decadimento come posso dire. Quindi noi oggi ci terremo molto a rivalutare questa sezione perché al di là del discorso che la tessitura non è solo per arte del tessuto ma è molto importante nel settore della moda, soprattutto oggi dove l'artigianato sta diventando di grande valore. Quindi noi abbiamo voluto esporre interessanti i pezzi che hanno a che fare anche con la moda attuale o di tutto quello che riguarda il moderno, la sperimentazione che già in quegli anni noi avevamo avuto l'opportunità di far vedere, di sperimentare con le varie tecniche e le insegnanti eccezionali che abbiamo avuto perché grazie a loro siamo riusciti ad ottenere quello che è il risultato di questo museo. Una scuola fantastica che ha dato tanto anche alla città perché sono andate tante attività e imprese creative di vario genere e per cui siamo qui oggi a ridare parte di quello che abbiamo ricevuto facendo vedere alla città quanto potenziale c'è e quanto potenziale potrebbe essere rifatto nascere da questa sezione del soppresso ma che il mercato ci sta chiedendo formazione in questo senso e cercheremo di formare, di creare dei corsi di formazione post diploma. Ed ora l'appuntamento con lo sport del lunedì in questo prossimo servizio. Arriva dalla palla ovale una delle poche gioie del weekend di sport pesarese. Al Tecnovull Rugby Park la Fiorini Pesaro trova la seconda vittoria consecutiva vincendo lo scontro diretto con Villorba con un convincente 33-7 con il quale i kiwi giallorossi si impongono con grinta e concentrazione dal primo minuto prendendosi cinque punti in classifica costruiti su due metri di franco e una testa per Fusco, Leva e Giubert. Rugby a parte il weekend ha infilato una serie di delusioni iniziate il venerdì sera nel calcio 5 con la netta sconfitta dell'Ital Service per 5-1 in casa della Sandro Abate a Vellino non addolcita dall'unica rete pesarese di Murillo Schiocchett. Si ferma in maniera inattesa anche la vispesoro che passa dalla partita perfetta di Pescara a rianimare una re canatese che perdeva da sei gare consecutive. Una brutta vis cade 1-0 al Tubaldi e si fa male da sola perché il gol decisivo è una sciagurata autorete di Zagnoni con la complicità del portiere neri. Vische può consolarsi con una classifica che vede ridimensionarsi solo da 4 a 3 punti il margine sulla zona play-out. Peccato anche per la megavox Vallefoglia che nella Serie A di Volley perde 3-1 a Novara dopo essersi illusa vincendo il primo set 25-21. Le piemontesi però escono alla distanza imponendosi per 25-20, 25-15 e 25-13. Il telegiornale finisce qui ma questa sera mi raccomando non cambiate canale perché tra pochissimo esattamente alle 20.10 circa ci inizierà la prima puntata di questa rubrica che sarà dedicata a tutti gli appuntamenti di Pesaro Capitale della Cultura. Una rubrica, un magazine che vedrete per tutto questo anno spettacolare che vi permette di essere informati su tutto ciò che accade appunto nella Capitale della Cultura. L'appuntamento è quindi questa sera tra pochissimo e poi il mercoledì e il venerdì negli orari che vedete in sovrimpressione. E poi questa sera in prima serata non può mancare il nostro appuntamento con la medicina, con il benessere, c'è capo, obiettivo salute. Questa sera abbiamo Paola Razzaboni che è chirurgo specialista in ortopedia e traumatologia e con lui parleremo della chirurgia protesica mini-invasiva. E subito dopo alle 21.40 torna una nuova puntata di Sinfonia di Maestri. Andiamo a conoscere le opere che organizza e che suona l'Orchestra Sinfonica Rossini. Vi diamo un aggiornamento sulle prossime spettacoli che sono assolutamente da non perdere. Lo facciamo con Saul Salucci che è presidente e sovrintendente dell'orchestra appunto e Paolo Rosetti che è il direttore artistico. Alle 22.00 appuntamento come di consueto con il Pesaro Rugby. Questa sera potete vedere la partita Fiorini-Pesaro Rugby contro Villorba Rugby. E poi domani vi aspetto con la nostra rassegna stampa alle 7.20 in diretta. Mi raccomando non perdeteci. E poi domani sera invece torna come di consueto il martedì e si fa sempre più caldo questo programma perché manca veramente poco allo svelamento dei candidati del nostro territorio, i prossimi candidati a sindaco. Intanto questa sera avremo con noi Maria Rosa Conti che è l'attuale assessore al Comune di Pesaro che dibatterà con Andrea Marchionni che è il vicepresidente del Consiglio Comunale Pesaro in rappresentanza invece della Lega. Grazie per essere stati con noi. Seguiteci sui nostri social. Potete rivedere questa puntata e tutte le altre puntate del nostro telegiornale anche sul nostro sito rossinitv.it. Io vi auguro buona serata.